Nelle sue ultime previsioni economiche, l'Ocse ha affermato di aspettarsi un'economia globale in contrazione nel 2020 del 4,2%. Ciò riflette una revisione al rialzo di una stima fatta a settembre che indicava un calo del 4,5% del PIL reale. Tuttavia l'organizzazione ha avvertito che rimane una incertezza sul prossimo futuro e ha esortato i responsabili politici a mantenere un sostegno mirato a settori e categorie particolarmente vulnerabili. C'è speranza, ma non siamo ancora fuori pericolo. Vediamo che il PIL globale sarà di circa 7 trilioni di dollari USA, circa un terzo dell'economia statunitense, inferiore entro la fine del 2022 di quanto sarebbe stato nelle nostre proiezioni pre-pandemiche, quindi l'impatto è piuttosto massiccio. Nel 2020 l'economia della zona euro è precipitata del 7,5% e riprese o rimbalzi tecnici non potranno certo colmare le perdite di un anno orribile. L'ottimismo è legato ai vaccini che fanno sperare in una ripresa più forte. L'unica certezza però è che sarà la Cina il paese con il maggior recupero, cosa che porterà Pechino a pesare un terzo sull'economia mondiale. L'Ox resta fiduciosa, ma a frenare la ripresa economica ci potrebbero essere anche i danni sociali che la pandemia ha provocato, creando milioni di nuovi poveri e devastando economie anche floride che ci metteranno del tempo a riprendersi.